Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, padre ebreo antifiglio cristiano e il video si basa su questo messaggio dell'amico blogger Gemini alias Dario vedete? è l'articolo di Maurizio Blondet, Pulp Fiction Archeologica è abbastanza recente, è del 5 agosto 2009 bene, come al solito Maurizio Blondet non è tanto riconoscente nei confronti del suo papà in questo caso diciamo che il cristianesimo sia quello cattolico che nelle altre sue manifestazioni protestanti, greco-tossi, non è riconoscente nei confronti del papà ma viene sempre così dal patriarcato, queste cose le ho descritte bene nel romanzo storico la stirpa del serpente, da che patriarcato e patriarcato i figli si contrappongono al padre e questo è il meccanismo della famiglia monogamica patriarcale vediamo di che si tratta di nuovo Maurizio Blondet attacca a morte gli ebrei sempre per quella famosa questione che gli ebrei hanno ucciso Gesù non l'hanno riconosciuto come Messia devono pagare, devono pagare fino a quando non lo riconosceranno come Messia dovranno pagare allora come fa questa volta Maurizio Blondet ad attaccare i perfidi giudei? come fa? dice che tutto quello che di archeologico ci sarebbe in Palestina non c'è mai stato non c'è mai stato e se qualcosa c'è stato qualcosa c'è stato di bello che solte più di re Solomone e tante altre belle cose se qualcosa c'è stato è stata costruita durante o la dominazione degli egizi o la dominazione assiro, babilonese, persiana non c'è nulla non c'è nulla l'unica cosa che hanno fatto gli ebrei è la Bibbia il Vecchio Testamento però anche lì è una cosa bella il Vecchio Testamento ma gli ebrei hanno sbagliato perché non hanno riconosciuto in Gesù il Messia e lo hanno messo in croce allora stringiamo un po' vediamo un po' nel Pazialcato i figli stanno sempre contro il padre di solito avviene il meccanismo già il grande Nietzsche la cui cultura però era tutta patriarcale già il grande Nietzsche osservava che una delle condizioni essenziali della affermazione è la distruzione e la distruzione e la negazione è un discorso tipicamente patriarcale fatto dal grande Nietzsche che però aveva ricevuto l'imprinting della cultura patriarcale una delle condizioni essenziali dell'affermazione è la negazione e la distruzione cioè io per affermare la mia identità devo negare la tua e come è avvenuto poi nel mito di Lucifero che si ribella al papà Dio Lucifero il più bello degli angeli si ribella al papà Dio e Dio lo precipita nell'inferno assieme a tutti gli altri angeli ribelli e come avvene nel mito di Edipò è tutta fatta in questo modo la cultura patriarcale i rapporti familiari e andateli a vedere nelle tragedie greche sono tutti rapporti insanguinati da quando nasce però il patriarcatore e il matrimonio monogamico patriarcale c'è la riduzione della donna in schiavitù non desiderare la roba ad altri non desiderare la donna ad altri roba e donna sono la stessa cosa e questi due comandamenti ultimi due comandamenti del decalo non sono ancora stati cancellati esiste sempre il non desiderare la roba ad altri non desiderare la donna ad altri c'è ancora oggi bene e così allora va come i cristiani invece di essere riconoscenti nei confronti degli ebrei che uccidendo Gesù hanno fatto in modo che si adempisse la volontà di Dio di riscattare l'umanità se la prendono quegli ebrei ma se gli ebrei non l'avessero ucciso Gesù l'umanità non sarebbe stata riscattata ce l'hanno forse quegli ebrei per il fatto che sono semiti e che noi ai cristiani agli italiani non gli fa piacere che la religione cristiana affondi le sue radici potentemente nel mondo semitico nel mondo ebraico semitico e vabbè ma se Dio Onnipotente avesse voluto che la religione di noi europei indoeuropei fosse una religione messa in piedi da un messia indoeuropeo e Dio l'avrebbe fatto nascere a Roma ai tempi del principato dell'imperatore Caio Giuglio Cesare Ottaviano Augusto no Dio ha voluto che Gesù nascesse tra i semiti tra gli ebrei e bisogna accettare la volontà divina e se Dio aveva anche stabilito che Gesù morisse in croce per mano degli ebrei bisogna rispettare la volontà divina e dire grazie ebrei grazie ebrei che avendo messo in croce Gesù avete consentito la redenzione dell'umanità va bene cari amici è bella la chiusa di questo articolo l'unica cosa buona che hanno fatto gli ebrei dice è la Bibbia ma essi però non hanno riconosciuto in Gesù il Messia e sino a quando non lo riconosceranno come Messia saranno sempre gli ebrei sempre ebrei saranno perché i giudei va bene cari amici grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni grazie a tutti